Ammirate tutti! Wow! Questa qui è la persona più grassa ad aver mai guidato una moto! E lui è il tizio che ha mangiato il panino più lungo del mondo! E questa donna solleva 45 kg solo con la lingua! Queste nel libro sono veramente le persone più speciali! Mi piacerebbe essere speciale come loro! Cosa? Stella, ma tu sei speciale! Esatto! Tutti sono speciali nel proprio modo speciale! Ma non speciali come le persone con i record! Su questo ha ragione! Insomma, hanno stabilito dei primati! Forse posso fare anch'io la stabilizzazione del record! Stabilirne uno è davvero un ball'impegno! Certe cose richiedono tempo e sforzi per realizzarsi! Allora sarà meglio il dormirci sopra prima di prendere una decisione! Un giorno anch'io entrerò nel libro dei primati! Poi sarò il speciale! Il gigantesco libro dei primati registrati Fai la staffa per farlo, Stella! Oddio, lo stai pensando sul serio! Spapenire un record non è uno scherzo! Sei disposta a dedicarti a questo compito? Certo, con tutto il mio cuore! Non capisco cosa dice la bocca di panino, ma tutti voi mi avete ispirato a provarci! Buongiorno, colleghi Titans! Olia ha più grande delle notizie per voi! Dunque, ho deciso di stabilire il mio primato! In effetti, a dire il vero, ho già iniziato! Quale primato? Non riuscite a vederlo? No, amica! Voglio stabilire i record delle unghie della mano più lunghe della storia! Quelle unghie sono davvero innaturali! Non ho mai visto una cosa simile in vita mia! Stella, ti ci vorranno anni per farti crescere delle unghie come quelle! Esatto! Il tizio nel libro ci ha impiegato 50 anni! Il tempo non il conta perché ho deciso di dedicare tutto il mio cuore a questo compito! Perché hai scelto qualcosa di tanto disgustoso? Così potrò essere il speciale! Considera un record più facile come essere la più piacevole dei Teen Titans! Grazie, Corvina! Ma è stato il deciso? Io non mi arrenderò il mai! A qualunque costo! Potrebbe essere un'idea terribile ma ti sosterrò, Stella! Scommetto che non passeranno due mesi prima che tu capisca quanto questo sia umiliante! Due mesi dopo Va tutto bene, Stella? Di questo passo ci vorrà l'eternità prima che faccia la stabilizzazione del record! Non devi farlo per forza! But... Quindi...